Se il wok è per voi ancora un oggetto sconosciuto, tutto da scoprire, ne vorreste magari comprare uno, ma non sapete dove trovare informazioni, da che punto incominciare la ricerca, beh, forse questo è il video giusto per iniziare. LA SCIENZA DEL WOK Ciao a tutti gli amanti della cucina orientale, del cibo, del buon cibo e perché no, anche della scienza in cucina. Io sono Ricky e vi do il benvenuto su questo canale. Parleremo di cibo e cultura dell'altro mondo, sempre però con un approccio scientifico, dato che io sono un chimico e questo è il metodo che meglio conosco. Partiremo, come avete capito, parlando della cucina orientale, ma non in generale, ma di un oggetto molto specifico. Direi un'icona, anzi il simbolo della cucina cinese. Sto parlando del wok, ma non un wok qualunque, del wok in acciaio al carbonio. Carbon steel wok. Approfondiremo le proprietà di questo strumento per capire perché il suo utilizzo fa tutta la differenza del mondo. Insomma, se siete amanti della cucina asiatica in generale, beh, non potete perdervi questo video. Qual è la definizione più semplice che posso dare a un wok? Il wok è una padella di ferro dal fondo arrotondato. Definizione semplicissima, direte, che raggruppa una quantità di pentole e padelle potenzialmente definita. Anche se questa definizione vi può sembrare semplice e banale, in verità racchiude l'essenza del wok. Prima di parlare però di questioni un po' più tecniche, entrare nei dettagli, voglio iniziare con un cappello introduttivo storico, per ambientarci un po' e iniziare a conoscerci meglio. L'evoluzione della cucina cinese, come la intendiamo oggi, è iniziata circa 2000 anni fa, durante la dinastia degli Han. Stiamo parlando di un periodo storico che va tra il II secolo a.C. e il II secolo d.C., quindi quattro secoli. Beh, in questo periodo sono state gettate le basi della cultura culinaria cinese, quindi hanno iniziato a essere introdotte nuove tecniche culinarie, ad esempio la macinazione del grano o altre tecniche per poi produrre la pasta, le focacce che conosciamo noi oggi o i panini al vapore famosissimi. Contemporaneamente alle tecniche si sono anche evoluti ovviamente gli attrezzi da cucina utilizzati. Si è passati infatti dall'utilizzo di contenitori in terracotta o in bronzo all'utilizzo di contenitori in ferro, i cosiddetti calderoni, così li chiameremmo noi, grossi recipienti in ferro da adagiare direttamente sul fuoco oppure quelli con le quattro gambe. Ecco, questi calderoni venivano prettamente utilizzati per stufare, per bollire, quindi per lunghe cotture. La frittura, come la conosciamo oggi, non esisteva ancora. Al massimo si utilizzava del grasso per arrostire. Ma come siamo passati da quei calderoni al vuo che conosciamo oggi? Beh, sono serviti 14 secoli, 1400 anni prima che il wok iniziasse a prendere veramente piede e a diffondersi. Per la precisione, durante la dinastia dei Ming, quella conosciuta per i vasi. No, eh? Ora, non sto dicendo che tutti i piatti da quel periodo in poi sono stati cucinati con il wok, preparati con il wok. Ma ancora a quel tempo era solo una minima parte, quindi probabilmente una piccola percentuale. Però da questo periodo in poi ha iniziato a diffondersi e ad essere sempre più utilizzato. Quindi il wok non ha 2000 anni, come magari spesso si sente o si legge scritto da qualche parte. Ma quello che ha 2000 anni è un'altra cosa, cioè il termine. La pentola è più recente nella sua forma e dimensione. Mentre il termine deriva dal dialetto cantonese, dalla parola wok, che già all'epoca era utilizzata per identificare delle padelle di pentolone di ferro, che però non avevano nulla a che fare con il wok moderno. Dalla traduzione all'inglese di questo termine cantonese wok, deriva infatti la parola wok, che ancora oggi è utilizzata. Veniamo ai giorni nostri. La forma del wok è una delle caratteristiche principali che lo identificano, lo caratterizzano, talmente specifica e ormai identificativa, che ora tutte quelle padelle che hanno grosso modo una forma simile sono identificate con lo stesso termine. La padella che state vedendo ora non è un wok, ma a prima vista potrebbe sembrarlo. Ma vi assicuro che cucinare con questa porterà a un risultato deludente, anche se ha la stessa forma. Infatti un'altra caratteristica fondamentale che identifica il wok è il materiale con cui è fatto. Il wok che troverete in ristoranti oppure che avete a casa sarà sicuramente costruito con acciaio al carbonio. Un carbon steel wok. Anche se in Cina potreste ancora trovare wok fatti in ghisa, anche se sono sempre più rari, io non l'ho mai visto, perché la ghisa è molto più fragile e anche molto pesante, scomoda, veramente scomoda da utilizzare per un wok. A differenza infatti degli altri acciai, l'acciaio al carbonio è economico, leggero e anche resistente, quindi utilissimo e adatto per costruirci un wok. La produzione di massa degli acciai è iniziata a circa metà dell'Ottocento. L'acciaio è una lega composta da ferro e carbonio in percentuale inferiore al 2%. Poi possono essere presenti altri elementi come il manganese, il silicio, il cromo. Ecco, solo una piccola variazione di questi elementi porta a una differente qualità di acciaio. Ad oggi pensate che esistono ben 3.000, oltre 3.000 varietà di acciai per tutte le applicazioni del mondo, quindi dalle costruzioni a oggetti condundenti a, non so, contenitori. La categoria di acciai che sicuramente conoscerete meglio e che avrete a casa è l'acciaio inox. Acciaio inox 18-10. Quello con cui sono fatte le vostre padelle per fare la pasta, ad esempio. Ecco, l'acciaio inox è inossidabile infatti, perché contiene almeno il 10,5% di cromo. È proprio questo elemento che, ossidandosi, crea quello strato di ossido di cromo superficiale che protegge la lega dalla ruggine e dalla corrosione. Ed è proprio per questo motivo che l'acciaio inox è anche lucido, grazie proprio all'ossido di cromo. L'acciaio al carbonio contiene, nello specifico, meno dell'1% di carbonio e non contiene quella percentuale di cromo. Infatti non è inossidabile, per questo motivo che appare opaco. Anche la ghisa, che contiene invece maggiore del 2% di carbonio, appare opaca allo stesso modo ed entrambi questi materiali non sono inossidabili. Sono infatti soggetti alla ruggine, alla formazione di ruggine, a ossidarsi, a corrodersi. Per questo motivo, oltre ad essere opachi, quindi un po' più brutti rispetto all'acciaio inox che è bello splendente, sono anche venduti, ricoperti da uno strato di olio protettivo. Se lasciamo infatti un wok non protetto senza uno strato d'olio vedrete che tenderà ad arrugginirsi. Veniamo ora all'ultima parte del video, quella un po' più tecnica. Quindi se siete arrivati fino qua, tenete duro. Parliamo infatti ora delle proprietà del wok, nello specifico del trasferimento del calore. Il calore è una forma di energia, energia che viene trasferita da un sistema ad un altro, da un corpo ad un altro. Sappiamo tutti che se tolgo una birra dal frigor, questa tende a scaldarsi e se tolgo una pizza dal forno, questa tende a raffreddarsi fino a raggiungere l'equilibrio con la temperatura ambiente. Direi che questa è una cosa che, sapete tutti, è una banalità. Ma con che velocità avviene il trasferimento del calore? Ecco, per rispondere a questa domanda, devo fare una piccola premessa. Nel caso che ci riguarda, stiamo parlando di trasferimento del calore per conduzione, cioè per contatto tra due materiali, quindi la mia base del wok, ad esempio, e il mio pezzo di perdura, di carne, che adagio sopra. A parità di aria considerata di contatto, la velocità di trasferimento del calore per conduzione è direttamente proporzionale a due parametri fondamentali. La prima proprietà è la conducibilità termica, che è la capacità, l'abilità del materiale a far passare il calore, e quindi quanto non si intromette col passaggio del calore. Ecco, guardando già i valori di questo parametro, si può scoprire che l'acciaio al carbonio ha un valore superiore all'acciaio inox, ad esempio. Il secondo parametro, invece, è il gradiente di temperatura, cioè la differenza di temperatura che c'è tra la parte del wok che sto scaldando e l'altro lato, quindi l'altra faccia su cui adagio il mio cibo, ad esempio, che sono a una certa distanza, quindi la differenza di temperatura relativa alla distanza. Cosa significa? Che maggiore è questa differenza di temperatura, più velocemente si trasferirà il calore, quindi più fredda la mia birra, più velocemente tenderà a scaldarsi, e più sottile è questo spessore, più velocemente trasferirà il calore. Infatti il wok è molto sottile, con l'acciaio al carbonio si può costruire una pentola molto sottile, circa due millimetri, anche qualcosa meno. A differenza, invece, delle pentole in ghisa, che essendo più fragili sono molto più spesse, quindi trasferiranno il calore più lentamente. Dimezzando quindi lo spessore, si raddoppierà la velocità di trasferimento del calore. Matematico. Un'altra proprietà che spesso non è considerata, ma anche in questo caso è molto molto importante, si chiama diffusività termica. Questo valore, cioè, mi indica quanto mi rende, in termini di radici centigradi, il trasferimento del calore, il passaggio del flusso del calore attraverso il materiale, con che velocità il mio materiale risponde a cambiamenti di temperatura. Questo parametro è dato, infatti, dal rapporto tra la conducività termica, che abbiamo appena visto, e un altro parametro che si chiama calore specifico volumetrico, la quantità di energia, di calore che devo fornire al materiale, per innalzare con l'unità di peso di un grado centigradi. Invece di considerare l'unità di peso, considero il volume, quindi moltiplico per la densità. Se andiamo a vedere il valore di diffusività termica dell'acciaio a carbonio, ad esempio, è superiore rispetto all'acciaio inox. Quindi, all'atto pratico, il nostro wok, come abbiamo già visto, oltre ad essere più sottile, ha anche la capacità di raggiungere temperature di picco più elevata e più rapidamente. Quindi, quando scaldo il wok, si scalderà più velocemente, e quando spengo il fornello, si raffredderà altrettanto velocemente, o molto più rapidamente rispetto all'acciaio inox o a una padella in ghisa. Se state cercando un wok, dovete assicurarvi che sia fatto di acciaio a carbonio e che non abbia rivestimenti antiaderenti che vanno a proteggerlo, perché vanno a interferire con tutte le proprietà che abbiamo appena visto. Quindi, deve essere nudo e crudo, deve essere brutto, non è una bella pentola, quindi opaca, grezza, ok? Queste sono tutte caratteristiche fondamentali che noi ricerchiamo in un wok. Wok antiaderenti? No, eh! Che cosa poi faremo al primo acquisto del wok, lo vedremo in un altro video. Direi che siamo giunti alla fine, non voglio tardiarvi ulteriormente con questi dettagli chimico-fisici un po' più articolati e complessi. Come vedete, non ho sfoderato dati, ma mi interessava solo farvi capire perché il wok è fatto così e deve essere fatto così. Se arrivati fin qui, il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!